Denunciata con forza la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2024 alla Corte d'Appello di Venezia, la carenza di personale di cui soffre a tutti i livelli la magistratura in regione rappresenta uno dei problemi più gravi che deve affrontare l'amministrazione della giustizia in Veneto. Tutto il sistema per l'assunzione che è stato inaugurato, che si è aperto per rimpinguare l'organico di magistrati, è stato fatto per, lo sappiamo, un magistrato non lo crea in tre mesi. Come i medici non li ricrea in tre mesi, perché parliamo anche di problematiche anche estese. Sulla questione anche del personale amministrativo, anche questo veramente preoccupante, da anni lo trasciniamo, adesso vediamo che ci sono delle assunzioni e sono sempre dei modi per affrontare. In una carenza di organico generalizzata in tutta la regione spicca ancora una volta la situazione delle sedi degli uffici giudiziari di Venezia, i più evitati dal personale, sia per i disagi logistici negli spostamenti in laguna, sia per i prezzi che riducono il potere d'acquisto rispetto alle altre città. Sì, mancano magistrati, mancano amministrativi. Noi da parte nostra abbiamo finanziato la cittadella della giustizia, sta andando avanti, ce l'hanno sempre riconosciuto, ce lo riconoscono. Dobbiamo lavorare tutti insieme, nessuno deve togliersi. Bisogna guardare in faccia i cittadini con l'occhio limpido. Tutti facciano il proprio dovere. L'amministrazione della giustizia non è basilare solo nella repressione dei reati, alcuni particolarmente preoccupanti come il radicamento dei grandi gruppi di criminalità organizzata in Veneto, ma anche in ambito civile, nella garanzia di tempi certi delle procedure, che è condizione basilare per aziende e imprenditori. Se arrivasse l'autonomia, cambierebbe qualche cosa per la macchina della giustizia in Veneto? È stato accennato dall'avvocatura proprio questa mattina la speranza che su tutto quello che è la giustizia di pace possa avere uno spazio. Noi un po' di autonomia la applichiamo già. Noi siamo stati la prima regione in Italia, siamo ancora gli unici, ad avere un accordo per il quale si possono far scorrere i graduatori della regione di Veneto per le assunzioni direttamente nell'ambito della magistratura. Noi siamo stati la prima regione in Italia.